possono essere seminati in semenzaio tipo mettete due tre semini in ogni buca e poi trapiantati quando hanno già il bulbo abbastanza sviluppato oppure possono essere seminati direttamente in pieno campo come faccio io ora adesso vi a chumidera o o o o o o o o Musica I ravanelli si possono raccogliere quando volete, da 15 giorni che hanno, che diventano il bulbo molto piccolo, però non troppo tardi, quando supera la grandezza giusta bisogna raccoglierlo subito che se no si indurisce e non è più buono. Raccoglierli è molto semplice, basta estrarli dal terreno, però tenendo conto facendo attenzione a non rovinare gli altri ravanelli, le radici degli altri ravanelli. Si fa così. Musica Musica Musica